In Africa si poteva fare di più se ci fosse stato fin dall'inizio un coordinamento chiaro. I soldi che si spendono in Europa e che si sono spesi sono soldi per gestire questa come altre epidemie che si verificheranno e quindi sono una crescita dell'infrastruttura tecnologica, ovvero sia una preparazione alla risposta dei paesi. E' sicuramente qualcosa che ci troveremo.